In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo Ascoltate un'altra parabola C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna La circondò con una siepe Vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti Mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono Un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi Ma li trattarono allo stesso modo Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo Avranno rispetto per mio figlio Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro Costui è l'erede Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero Quando verrà dunque il padrone della vigna Che cosa farà a quei contadini? Gli risposero Quei malvagi li farà morire miseramente Ed era in affitto la vigna ad altri contadini Che gli consegneranno i frutti a suo tempo E Gesù disse loro Non avete mai letto nelle scritture La pietra che i costruttori hanno scartato È diventata la pietra d'angolo Questo è stato fatto da Signore Ed è una meraviglia ai nostri occhi Perciò io vi dico A voi sarà tolto il regno di Dio E sarà dato a un popolo Che ne produca i frutti Udite queste parabole I capi dei sacerdoti e i farisei Capirono che parlava di loro Cercavano di catturarlo Ma ebbero paura della folla Perché lo considerava un profeta Ciò che ti dico si compirà E sorgerà il regno nostro Ti ripeto che domani Tu stesso Tu vedrai questo d'oggi legregge Gettarsi al primo mio cenno Ad attizzare i carboni ardenti del rogo Sul quale ti brucerò Per essere venuto a disturbarci Perché se qualcuno Più di tutti Ha meritato il nostro rogo Sei tu È il capolavoro di Dostoevsky La leggenda del grande inquisitore Un mini racconto Contenuto nel romanzo I fratelli Karamazov Un racconto immaginario Di tipo allegorico Ambientato in Spagna Ai tempi della santa inquisizione Che narra il ritorno di Cristo sulla terra Dopo quindici secoli dalla morte E come la prima volta Viene ancora ucciso Anzi bruciato al rogo Da questo grande inquisitore Il quale lo accusa Di aver seminato confusione In una chiesa Che si è ormai consolidata E strutturata E lo rimprovera Di voler portare La libertà Ad un popolo Che è incapace Di suffruirne Poiché Un popolo felice Non può essere libero Ma deve essere Sottoposto Ad un potere autoritario Che decida per lui Interessantissimo Anche per i nostri giorni E qua andatevelo a ascoltare Nei brani correlati È il miglior commento Al Vangelo di oggi Cosa fanno In fondo Questi vignaioli Esattamente Quello che fa Il grande inquisitore Si impossessano Della vigna La organizzano E si prendono i frutti Il problema È che quella vigna Non è loro Gli è stata solo affidata Quella vigna Nel racconto evangelico Rappresenta Il popolo Che Dio Si è scelto E letto E santificato E che poi Ha affidato Ai capi Affinché lo custodissero Ma questi Una volta ricevuto Il dono Ad amministrare Lo hanno fatto proprio Rivoltandosi Contro il datore Di lavoro E uccidendo Tutti Di coloro Che in qualche modo Gli ricordavano Questa appartenenza Così Dio Il creatore È stato ucciso Dalle sue creature Che cosa imbarassante Eppure È una storia Che continua Anche oggi E tu riesci a fare E tu riesci a gestire Si coglie Si coglie La gratuità Di un prete Di campagna Che vive Una vita semplice Quotidiana E contemplativa Ha qualcosa di similare A Perfect Day Di Wim Wenders Appena uscito Nelle sale cinematografiche È l'elogio Della lentezza Bene Se non Lo avete ancora fatto Vi ricordo Di andare a leggere Le newsletter Con le novità Che abbiamo E oggi Le newsletter Sono in audio Anche sulla app E noi ci sentiamo Lunedì Con i commenti Integrati Di domande E con i film Buon fine settimana E buona domenica